La vita all'ospedale di Sant'Orso scorre con regolarità nonostante la notizia dei due casi positivi. All'interno appare tutto come al solito, il banco delle informazioni, i negozi, i bagni perfettamente puliti. Certo, si nota che le persone mantengono una maggiore distanza tra loro, non vogliono cedere però alla paura e hanno poca voglia di parlare. Lo so. Questo lo preoccupa? Cosa? Cioè, proprio in ospedale per qualsiasi malattia tutti noi deve essere un po' preoccupati, anche infettivi, però secondo me un po' esigirato. Sono un'informatrice, avevo bisogno di vedere un medico con cui avevo l'appuntamento e speriamo. Ha limitato i contatti, è stata lontana. Ho aperto, i medici hanno tutti la mascherina, non ci si stringe le mani, c'è il gel lavamani a disposizione in modo da evitare i contatti. Insomma, le sembra che le precauzioni siano prese bene? Mi sembra di sì. Si va tranquillamente? Ma noi sì. Poi precauzioni chiaramente da prendere, lo sappiamo, però non tutti le... Le seguono? Cioè, nel senso che si vede qualcuno che non... Ah, che viene a darti a mano, che non si tiene un po'... A distanza, a debita. Purtroppo sta andando in giro un po' dappertutto, quindi cautela ma a normalità. Non bisogna allarmarsi troppo? No, eh no, se no, se no veramente poi va a finire che non si muore di coronavirus ma di qualcos'altro. Adesso lei entra e prenderà qualche precauzione, distanza di sicurezza? Beh, distanza di sicurezza, mani sempre in pulizia. Si sta esagerando con questo coronavirus? Secondo me sì. Guardi, noi non neanche parliamo perché sono così ossessionate di queste cose.